Buonasera, con il video di oggi mi piacerebbe rispondere alla domanda che si pongono in molti Ovvero, domanda da un milione di dollari Quando si scrive una canzone è il caso di partire prima dal testo o prima dalla musica? Andiamo ad approfondirlo insieme Dunque, io per il video di oggi mi sono preparato questo schemino Allora, per prima cosa bisogna premettere che non esiste una vera e propria regola che ci dice No, è il caso di partire dal testo o dalla musica Non esiste neanche una scuola che ci dice No, è il caso di procedere in questo modo piuttosto che in quest'altro Diciamo che ognuno scrive e compone sulla base delle proprie conoscenze Nel senso che c'è chi ha un'intelligenza per lo più musicale E quindi gli viene molto più semplice comporre la musica E c'è chi invece ha il dono delle parole E quindi gli riesce molto più semplice scrivere il testo Un po' come scrivere una poesia È più o meno lo stesso principio Allora, come potete vedere qui abbiamo principalmente due categorie Ovvero quelli che partono dal testo e poi quelli che partono dalla musica Poi ci sarebbe una terza categoria che sarebbe la categoria dei cantautori Ma che andremo ad approfondire più tardi Dunque, per prima cosa bisogna dire che spesso la figura dell'autore Ovvero quello che scrive il testo Coincide con la figura del compositore Ovvero quello che scrive e compone la musica Altre volte invece si tratta di due persone differenti Questo proprio ricollegandomi a quello che ho detto prima C'è chi ha il dono delle parole ma non è in grado di scrivere la musica E il viceversa Dunque, io direi di partire da coloro che scrivono prima la musica e poi il testo Vi anticipo già da adesso che questa formula qui è quella più semplice È anche quella più utilizzata Come vedete qua io ho anche segnato dei nomi Proprio per semplificarne la spiegazione Proprio per fare degli esempi Infatti qui, nel caso di chi scrive prima la musica Abbiamo Mogol Battisti Cioè la coppia che ha dato il contributo maggiore A tutto il ripetroio della musica italiana E proprio nel caso di Mogol Battisti Il lavoro era questo Battisti scriveva la musica Passava il proprio lavoro a Mogol E poi Mogol procedeva con lo scrivere il testo Questa formula qui è anche quella più utilizzata Proprio perché è più semplice Come vedete si scrive su una metrica già stabilita E vi dirò di più A conferma di questa cosa È noto un aneddoto che raccontò stesso Mogol Parlando della scrittura di una canzone in particolare Quando morì Lucio Battisti Lo telefonò una medium dicendogli Tu scriverai una canzone per Lucio Battisti Ecco, in un primo momento Mogolo non voleva neanche crederci Anche perché poi diceva Non è possibile una cosa del genere Perché io scrivo sulla musica Non posso scrivere una canzone per Lucio Battisti Il caso ha voluto che Qualche giorno dopo Si presentò Gianni Bella Con una musica a setta Con la musica dell'Arcobaleno E fu lì che Mogol ebbe la possibilità Di scrivere questa bellissima canzone Dedicata proprio a Lucio Battisti Però ci tiene a precisare stesso Mogol Che senza la musica Lui non avrebbe potuto procedere In nessun modo Ma questo perché Perché Mogol è un autore È un paroliere Ha il dono delle parole Qua io ho fatto questo esempio Immaginate di scrivere una frase musicale E di andarci a scrivere delle parole sopra La potete sbizzarrirvi Come meglio vi capita Come meglio vi sentite Come per esempio qua abbiamo una frase musicale E sotto possiamo scrivere qualsiasi cosa Per esempio questa è una canzone Penso che l'avete riconosciuta La canzone di Eros Ramazzotti Grazie di esistere Ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa Grazie di esserci Quindi in un caso del genere Noi abbiamo un certo numero di note E su quelle note dovremmo andare ad incastrarci Un certo numero di parole Un certo numero di sillabe Quindi quello è il range Quello è la metrica E da lì non possiamo uscirne Ecco Diciamo che questi sono un po' anche i pro e i contro Cioè è una scrittura più semplice Però è una scrittura A mio avviso meno spontanea Quindi siamo un po' limitati nello scrivere Cioè alle volte vorremmo scrivere una frase Però la musica non ce lo permette Vorremmo scrivere una frase più lunga Magari la frase musicale più corta Quindi dobbiamo attenerci un po' a quella che è la metrica Come nel caso della poesia Se è stato stabilito che la poesia va scritta in E in decasillabi Le sillabe devono essere undici Undici sillabe per ogni verso Quindi da lì non si può uscire fuori Comunque sia In un caso del genere E' stata scritta prima la linea melodica Poi in un secondo momento Gli sono state sigillate Gli sono state affidate Queste parole che hanno fatto storia Ma poteva essere qualsiasi altra frase Veramente in Davanti ad una frase musicale Si è veramente liberi di poter scrivere Quello che più ci si sente Ecco Questo è il caso di chi scrive prima la musica Poi ho messo anche qui I Poo Che sostanzialmente si procedeva in questo modo Robby Facchinetti scriveva le musiche Che in un secondo momento Valerio Negrini che era il paroliere Dello storico gruppo Andava con lo scrivere il testo Ma vi ripeto E' il metodo più semplice ma non è l'unico Non a caso Stesso Robby Facchinetti Disse in un'occasione Se non volete avere problemi Problemi riguardanti La ritmica La metrica Problemi riguardanti comunque I fraseggi musicali Partite Dalla musica Però se comunque Mi viene in mente un'idea di testo Potete benissimamente improntarvelo Nessuno ve lo vieta Questo perché poi Sapete benissimo che l'ispirazione E' un momento che Fugge Una volta che l'avete perso Non lo recuperate più Vedete io Non a caso ho messo Qui Nell'elenco Il nome dei Po Proprio perché E' stato il gruppo che Più mi ha Formato musicalmente Quindi Questo Questo tributo Io lo dovevo In qualche modo A seguire Abbiamo Chi scrive Prima il testo E poi la musica Ecco A mio parere Questa è una scrittura Un po' più sincera Non è forzata Però Si vanno incontro Ad alcuni inconvenienti Vi faccio Il caso Di Elton John Se Andate ad ascoltare Le canzoni di Elton John Io sento sempre Persone che Studiano Le sue canzoni Mi dicono Ho delle difficoltà Con le ritmiche Ho delle difficoltà Con il suonare il pezzo Questo perché Non è un caso Allora Bisogna andare Ad analizzare Un po' come È stata scritta La canzone E Praticamente Il lavoro Era diviso In questo modo Bernie Topin Scriveva Il testo E Elton John Poi Le musicava In un secondo Momento Bernie Topin Scriveva Il testo Un po' come se fosse Una poesia Un In altri casi Come se fosse Una lettera d'amore Come se fosse Un tema Un testo Senza 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 Avere Uno Schema In mente Ecco Lo schema Lo andava a ricreare Proprio Elton John Quando andava A musicare La canzone Ecco Non è un caso Se nelle canzoni Delton John Spesso Si cambia Di ritmica Cioè Se la canzone Parte in quattro quarti Poi dopo Passa in due quarti Poi dopo di nuovo Ritorna in quattro quarti Ecco Questo È dovuto al fatto Che comunque Al testo Bisogna un attimo Incastrarci la musica Vedi È il lavoro contrario Però È meno semplice Come lavoro Proprio perché Bisogna avere Un'intelligenza musicale Che ce lo permette E Lo stesso caso È anche quello di Antonio De Curtis In arte Totò Ecco Noi Totò Lo conosciamo come Un grande attore Questo è il Forse il caso Più Vicino Il caso Che ci È un caso Più interessante Ovvero Antonio De Curtis Era un attore Non era Un musicista Non era Un cantante Anche se Comunque nella sua carriera Si è sentito Comunque di Scrivere Una famosissima Canzone Che ha fatto La storia Del repertorio Della musica Napoletana Ovvero Mala femmina In un'intervista Totò Dichiarò Che aveva scritto Questa canzone Partendo dal testo E Gli è venuto Quasi spontaneo Musicarla È partito Dal testo Proprio perché Poi Totò È anche noto Per aver scritto Tantissime Poesie Di un certo livello Vi invito A A Curiosare E Scrisse il testo Di questa canzone Così Di getto Un po' come se fosse Una poesia Vedete Un po' più semplice Poi Per quanto riguarda La musica Ne è sempre lui L'autore Però Diciamo Da profano Della materia Musicale Ha dichiarato Che comunque Mi è venuto Un po' spontaneo Musicarla Un po' Fischiettando Non è che ci si è messo Lì Sul pianoforte A Scrivere La La linea melodica Della canzone Per questo Si è trovato Abbandangiato In questo modo Partendo dal Testo Perché era A lui un po' più familiare La scrittura Dopodiché Poi Fischiettando Ha scritto Ecco per esempio Siccome che Le parole Di quella poesia Avevano comunque Una metrica Stabilita Un certo numero Di sillabe Per verso Quindi Gli è stato Più semplice Comunque Scrivere Anche la musica Come vedete La scrittura È più sincera Io Con Partendo dal testo Io mi sento Di essere un po' Più libero Nello scrivere Le parole Posso scrivere Quello che sento Quindi Quando andrò A comporre La musica È un lavoro Che dovrò Svolgere A tavolino Quindi Non male Come lavoro Anche se Possiamo andare Incontro ad alcuni Problemi Ovvero Gli stessi problemi Di cui vi ho parlato Prima Nel caso Di Elton John Ovvero C'è questo Cambio di metrica Repentino Ci può anche capitare Comunque di dover Tagliare alcune frasi Comunque di dovercele Incastrare Quindi È un lavoro Un po' Più Articolato Poi C'è La terza Categoria In cui io qua Ho scritto un nome Un'adora A cui io Tengo tantissimo È quello Di Rino Gaetano Dunque La categoria Dei cantautori È una categoria A parte Perché Perché Alcuni cantautori Di solito Si trovano A scrivere Il testo E la musica Insieme Però Questa non è Una regola Molti cantautori Comunque Hanno una buona Conoscenza musicale Hanno qualcosa Da dire E quindi Gli riesce Spontaneo Scrivere Entrambe le cose Il caso di Rino Gaetano È un caso Un po' Particolare Perché Ci sono stati Dei casi In cui lui ha scritto Prima il testo E poi Dei casi In cui ha scritto Solo la musica Rino Gaetano Ha cominciato Proprio così Scrivendo I testi All'interno Di un pub Ed è lì Che poi In un secondo Momento È andato Ad Arraggiarci La musica Ecco Perché poi Diciamo Rino Gaetano Nasce proprio Come Un cantautore Un autore Di testi Non Non ci sono Tutte queste Partiture Così complicate All'interno Delle sue canzoni Infatti Le sue canzoni Sono famosissime Per essere state Composte con Due Tre accordi Quindi È una scrittura Musicale Molto Più Alla mano Molto più Accessibile A tutti Però È anche Famoso Il caso Della sua Ultima Canzone Non so Se ne siete A conoscenza Però Rino Gaetano Ci ha lasciato Un po' Come una sorta Di Testamento Questa canzone Che molti Definiscono La canzone Scesa dal cielo Perché in effetti Sarebbe La canzone Incompiuta Di Rino Gaetano Rino Gaetano Scrisse questa Questa base musicale Bellissima Molto suggestiva Però Non è riuscito In tempo A scrivere Il testo Perché È morto Prima Di poter Scrivere Il testo È stata pubblicata Dopo la sua morte Questa Canzone E Da lì Si può E vincere Un po' Il lavoro Che faceva Rino Gaetano Un po' Su tutte Le altre Canzoni Ovvero Si chiudeva In studio E Componeva La musica Dopodiché Cantava A voce Un po' Canticchiando Con dei vocalizzi La linea Melodica Per esempio Nel caso Di questa canzone Vi invito Ad ascoltarla La canzone Si intitola Io Con lei E la canzone Fa Io Con lei Ecco Su questa linea Melodica Rino Gaetano Avrebbe dovuto Scrivere Le parole Ecco Ritornando un po' Al discorso di prima Su questa linea Melodica Veramente Potete Sbizzarrirvi Ci si può scrivere Veramente Di tutto Infatti Per questo Rimaniamo Un po' Con la mare In bocca Perché Su quel testo Veramente Ci potevamo Aspettare Grandi cose Chissà Cosa Ci avrebbe Scritto Però È chiaro Da quella Melodia Cantata Da Rino Gaetano Sono chiare Solo le parole Io Con lei E poi Da lì Avrebbe scritto Tutto il resto Ecco Questo è Un po' Il Lavoro Vedete Come vi ho detto Prima Scrivere Prima La musica Ci agevola Nella scrittura Del testo Perché poi Quella è la melodia E lì Ci possiamo Sbizzarrire Come vogliamo Per quanto riguarda Il testo Il lavoro Diventa un po' Più Un po' Più Complicato Andarci A scrivere La musica Perché Veramente Non c'è Limite Veramente Ce lo possiamo Inventare a momento Ci possiamo Sbizzarrire In qualsiasi modo Però È necessaria Una Una certa Abilità Una certa Conoscenza musicale Ecco Molti cantautori Me compreso Procedono in quest'altro modo Partono dal testo Però nel mentre Che scrivono il testo Hanno già In mente Come quelle parole Devono essere cantate Anche se Non ci si arma Fisicamente Di una Di un pentagramma Comunque Mnemonicamente Sanno già come Vanno cantate Quelle parole Per questo Poi diventa Più facile Andarci a scrivere La musica Andarci a Stabilire Degli accordi E quindi Il lavoro È molto più Semplice Però Come vi ho Già detto prima Bisogna avere una certa Dimistichezza Con L'armonia musicale E bisogna Anche soprattutto Avere Una certa Fantasia Naturalmente Naturalmente Questo che vi ho Illustrato In questo video Vuole essere solamente Una linea guida Uno spunto Di riflessione Però Sappiate che Il primo step Che dovete Percorrere È quello Di riconoscere Quali sono i vostri Limiti Quali sono le vostre Abilità Perché Se riconoscete Di non avere Una buona Conoscenza Della teoria musicale Non Conoscete bene Un po' Tutte le dinamiche Che si nascondono Dietro gli strumenti Musicali Allora Potete Procedere Con La scrittura Del testo E magari Affidare Il lavoro Della composizione Ad un'altra persona La stessa cosa Vale per il viceversa Se avete Tante fantasie Musicali E Vi piace comunque Comporre tanta Di quella musica Voi potete Benissimamente Affidare il lavoro Della scrittura Ad un'altra persona Poi Chi canterà Il testo Siete voi Liberi Di deciderlo Infatti La musica italiana È Piena Di Casi intrecciati Per esempio Il caso Di Mogol Battisti Battisti Componeva le musiche Mogol I testi E a cantare le canzoni Era stesso Il compositore Lo stesso Vale per Innumerevoli Casi Poi ci sono Anche persone Che Scrivono Il testo Una Seconda persona Che scrive La musica E poi Una terza persona Che andrà a cantare La canzone Vedete La musica Ha Veramente Non ha limiti Quindi Ricapitolando Vi ripeto Non c'è Una Una regola Fissa Da seguire Se Volete Procedere Con la scrittura Di una canzone Potete scegliere Se Partire Prima dal testo Consapevole Del fatto Che La scrittura Sarà più Libera Quindi Più Sincera Oppure Partire Dalla musica Dove lì Sarete Sicuramente Più Agevolati Perché Andrete A scrivere Il testo Su Una Metrica Già Stabilita Questo E Tutto E voi Com'è che Scrivete Le vostre Canzoni Oppure Come avete Intenzione Di procedere Con il Lavoro Della Scrittura Qual è La formula Che più Vi si Addice Fatemelo Sapere Nei Commenti Se Il video Vi è stato Utile Se Avete Ulteriori Curiosità Fatemelo Sapere Che io Cercherò Per quanto Posso Di Soddisfare Le vostre Curiosità Per il Momento Vi auguro Un buon Proseguimento E Ci vediamo Al prossimo Video